Grazie Presidente, intanto volevo solo ricordare al collega Figliomeni che anche poco fa il Presidente della Commissione Mobilità mi ricordava che l'età media del parco macchine è di circa 12 anni, quindi io sono d'accordo con il consigliere relativamente alla situazione attuale dei mezzi in merito all'accessibilità di cui più volte abbiamo discusso anche in sede di Commissione Capitolina, soprattutto quando abbiamo affrontato il tema del trasporto delle persone con disabilità abbiamo approfondito anche dei protocolli di intesa sottoscritti negli scorsi anni e mai poi portati in attuazione comunque entrando nel merito dell'impegno, noi intanto stiamo aspettando la direttiva della Comunità Europea che obbligherà da luglio a installare in tutti i nuovi mezzi il rumore artificiale, si chiama così se è quello che intendeva discutere il collega Figliomeni e quindi permetterà alle persone non vedenti di avvertire la presenza dei mezzi elettrici che di solito non sono percepibili perché non fanno rumore in più abbiamo avviato nello scorso anno un tavolo interdipartimentale che desse seguito a una delibera del 2014 che invece non vedeva oltre alla formulazione di un documento nessun progetto di attuazione dei PEBBA quindi il tavolo per le PEBBA era formalmente fermo senza nessuna applicazione e noi ci stiamo preparando per portare un modello di applicazione dei PEBBA ossia una disciplina su come si fa un PEBBA e su dove devono essere applicati i PEBBA e come soprattutto devono essere elaborati perché non basta una semplice delibera di giunta ma dobbiamo entrare nel merito e nell'applicabilità di questi progetti quindi a breve arriverà un documento anche in giunta che ci siamo promessi di portare in tempi brevissimi e per appunto formulare un modello di applicazione di queste PEBBA affinché sia applicato perché sia reale il superamento delle barriere architettoniche in più c'è un tavolo di lavoro che ha avviato il nostro delegato all'accessibilità universale il dottor Venuto assieme ad ATAC, assieme alle associazioni rappresentative per le disabilità e è un tavolo che viene chiamato dalla stessa ATAC ogni volta che vengono avviati dei nuovi progetti oppure che c'è in essere ad esempio l'acquisto di nuovi autobus oppure ad esempio di recente hanno discusso sull'accessibilità della nuova metro C sulla verifica dell'autenticità dei pass per le persone con disabilità quindi per i parcheggi riservati, sulle rampe dei trenini per la Ostia Lido quindi ammirevole la volontà di superare oggi dopo 12 anni delle criticità che ostacolano l'accessibilità ai mezzi per le persone con disabilità noi però lo stiamo veramente concretizzando e attuando nelle prossime settimane insomma mi riprometto di discuterne magari in commissione o comunque con il collega Figlio Meni affinché possiamo verificare e approfondire il documento che arriverà in giunta a breve quindi per questo motivo riteniamo di doverci astenere a questo impegno grazie